Camillo Benzo Cavour, uno statista visionario e architetto dell'unità d'Italia. Camillo Benzo, conte di Cavour, è un nome che risuona con la storia dell'Italia e della sua unità. Essendo una delle figure chiave del movimento risorgimentale, Cavour ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare l'Italia moderna come la conosciamo oggi. La sua visione, il suo acume politico e la sua incrollabile determinazione lo resero uno statista eccezionale che lavorò instancabilmente per l'unificazione dei vari stati italiani in umunica. Nazione. Parole chiave. Camillo Benzo Cavour, statista visionario, unità d'Italia, movimento risorgimentale. Nato il 10 agosto 1810 a Torino, Piemonte Sardegna, oggi Italia, Camillo Benzo Cavour fu cresciuto in una famiglia aristocratica. Fin dalla tenera età dimostrò un notevole intelletto e un vivo interesse per la politica. Dopo aver completato gli studi presso l'Università di Torino, intraprese una carriera politica che avrebbe segnato il destino dell'Italia. Il percorso politico di Cavour iniziò alla Camera dei Deputati dove rappresentò la sua regione natale, il Piemonte Sardegna. Ottenne rapidamente il riconoscimento per la sua eloquenza e le sue idee progressiste. La sua fede nel liberalismo e nella monarchia costituzionale lo spinse a sostenere riforme che avrebbero modernizzato l'Italia e rafforzato la sua posizione sulla scena internazionale. Non si può discutere dell'eredità di Cavour senza menzionare il suo significativo contributo all'unificazione italiana. Riconoscendo che l'unità era cruciale per il progresso e la stabilità dell'Italia nonostante il dominio straniero e le divisioni interne, si imbarcò in una missione diplomatica per stringere alleanze con altre potenze europee. Le capacità diplomatiche di Cavour furono messe alla prova durante la guerra di Crimea, dove allineò strategicamente il Piemonte Sardegna con Francia e Gran Bretagna contro la Russia. Questa alleanza non solo ha messo in mostra la sua abilità diplomatica, ma ha anche raccolto l'attenzione e il sostegno internazionale per la causa dell'Italia. Forse il risultato più significativo di Cavour fu il suo ruolo determinante nella creazione del Regno d'Italia. Attraverso trattative e alleanze strategiche, riuscì a unire vari stati italiani sotto la guida del re Vittorio Emanuele II. Ciò segnò un punto di svolta nella storia italiana, poiché gettò le basi per una nazione unificata che avrebbe prosperato politicamente, economicamente e culturalmente. La visione di Cavour si estendeva oltre l'unificazione politica, riconobbe l'importanza dello sviluppo economico per un'Italia prospera. Ha implementato numerose riforme volte a modernizzare l'agricoltura, l'industria e le infrastrutture. I suoi sforzi portarono a progressi significativi nel commercio e nel commercio, migliorando al tempo stesso il tenore di vita degli italiani. L'eredità di Camillo Benso Cavour come statista visionario e architetto dell'unificazione italiana è innegabile. La sua incrollabile determinazione a unire l'Italia sotto un'unica bandiera ha lasciato un segno indelebile nella storia. L'impatto delle sue strategie politiche e delle sue riforme può essere avvertito ancora oggi nell'Italia moderna. I contributi di Cavour servono da ispirazione per le generazioni future a lottare verso l'unità, il progresso e la prosperità. Grazie a tutti.